E ora qualche suggerimento per trascorrere il nostro weekend, vediamo. Metti una lunga fila di bugie e una catena di bugie dove una tira l'altra, aggiungi due coppie rimescolate da un impertinente cupido e la commedia degli equivoci dell'amore servita. Sì, perché una bugia tira l'altra è un esilarante spettacolo dove l'equivoco e la bugia corrono parallele, divertendo lo spettatore a ritmo serrato di triangoli e intrecci amorosi dal finale imprevedibile. Scritto e diretto da Luigi Russo, lo spettacolo è prodotto dalla Good Mood dell'infaticabile Nicola Canonico, che fa parte anche del cast artistico insieme a Gianni Ferreri, Natali Caldonazzo, Annalisa Favetti e Cecilia Taddei. Un cast brillante e dalla verve perfetta per una commedia che finirà per travolgere il pubblico incaterandola alla poltrona fino all'ultima bugia. Lo spettacolo ha debuttato il 23 ottobre al Teatro Ambra Garbatella di Roma, dove resterà in scena fino al 2 novembre.